Benvenuti alla quarta puntata di Educati e Incasellati, il corso di Excel che vi porta da base base, o peggio di base dove siete adesso, a molto meglio dei vostri colleghi, a soli 77,77 euro pagabili alla fine del corso. Vi annuncio subito che il corso, a grande richiesta, è anche in versione podcast, video podcast, su Spotify, Apple Podcast, per cosa c'è di bello, Amazon Music, Google Podcast che morirà tra 4-5 giorni e abbiamo anche YouTube Podcast, la sezione Podcast di YouTube. Quindi il corso adesso è fruibile esattamente come il precedente, come Educati e Finanziati. Inoltre vi ricordo che dovete fare i compiti, mi è giunta voce che qualcuno ha guardato la lezione 3 senza aver fatto i compiti della lezione 2, questo non va bene, non va mica bene, ve lo dico seriamente, cioè più andiamo avanti meno capirete se non fate i compiti, più che meno capirete, più darete a me la colpa che non state capendo, quello è il problema, perché se non capite a me frega poco. Le lezioni cominciano a diventare lievemente meno noiose, tuttavia siamo ancora abbastanza nella noia mortale. Ma iniziamo subito, in questa lezione parleremo di formule e accenneremo l'inizio delle funzioni. Le formule sono la base di Excel, cioè Excel vive perché poi mette le formule. So che molti di voi digitano ancora tutti i numeri con la tastiera, ma le formule ve li possono calcolare automaticamente. Passiamo subito al caro Excel, eccolo qui. Ho le formule e penso che sia una cosa che funziona tranquillamente con Google Spreadsheet, Excel Online e OpenOffice e compagnia bella. Andiamo nel foglio primo. Ecco, già andiamo nel foglio, se non avete fatto i compiti non sapete farlo. Benissimo, e ci mettiamo qui in F2 e scriviamo uguale. Tutte le formule, come ho già detto, cominciano con uguale, quindi proprio non c'è vero. Se comincio per uguale è una formula, altrimenti dovete forzarla a testo, se volete del testo comincio per uguale. E poi andiamo E2, scriviamo proprio con la tastiera, E2 diviso 3. Ok, quindi questa è già una ottima formula per una divisione e vedete in automatico mi mette il valore della E2. Faccio notare che qui nel foglio c'è scritto 3,67663, però questo non è il vero contenuto della cella. Come vi ho detto all'inizio, il vero contenuto della cella lo trovate sempre sopra. Guardate che questa frase che sto dicendo sembra una banalità, ma ci saranno più avanti situazioni in cui dite Eh, ma non può essere così in questa cella, è perché tu Gigio non hai visto il vero contenuto, perché si possono mascherare le cose e farvele apparire in maniera differente, senza grossi problemi. Possiamo anche farvi apparire questa cella bianca, senza grossi problemi, basta cambiare il colore. Già fatta, cella bianca, invece il vero contenuto è E2 diviso E3. Ok, quindi con le formule possiamo utilizzare le operazioni matematiche. Ricordo che la somma si indica col più, la sottrazione col meno, la moltiplicazione non si indica col per né col puntino, ma si indica con, non ho abbastanza dita, l'asterisco, e la divisione non si fa con i due punti, ma si fa con la barra. Non mi ricordo mai come si fa l'elevamento a potenza, adesso lo facciamo subito, penso col cappelletto. Cappelletto 3, sì, si fa col cappelletto, comunque c'è anche una funzione che lo fa. Si fa per caso anche col doppio asterisco come in alcuni linguaggi di programmazione? No, ovviamente no. Ok, fun fact, piccolo aneddoto, se avete una tastiera tedesca, adesso dico per tutti quelli che chiamano la tastiera tedesca, questo cappello di cappelletta non viene fuori, dovete premere il cappelletto e poi lo spazio. Una caratteristica tutta misteriosa delle tastiere tedesche. Voi avete visto qui che io ho usato E3 per indicare il valore che sta nella cella, il valore del calcolo, perché la cella E3 contiene una formula, il valore del calcolo della cella E3. Avete visto anche che Excel molto gentilmente mi ha colorato E3 di blu e mi ha colorato anche la cella di blu, e nelle versioni nuove vedo che c'è anche lo sfondo della cella colorato di blu chiaro, che in italiano si chiama azzurro, ma penso sia una delle poche lingue in cui blu chiaro ha un suo nome. Azzurro. Ok. Questo Excel ce lo fa gentilmente e generosamente, ad esempio ci prezziamo qui e scriviamo uguale E7 diviso E8, vedete, E7 e E8 me li ha colorati in maniera diversa in modo che io possa orientarmi, più C9 per 3. Ecco qui. Una bella formula, vedete che blu, rosso, viola, poi dopo un po' io ripeto i colori e si stufa. Ecco qui. Quindi le funzioni funzionano benissimo, perfettamente. Già a questo punto avete uno strumento veramente potente. Queste celle però non è necessario digitarle a mano, perché magari, che so, io sono la E2743, è un po' pesante digitarle a mano, oppure semplicemente non c'ho voglia, e quindi posso tranquillamente scrivere uguale e invece scrivere E7, cliccare su E7, o per te, diviso, diviso devo purtroppo metterlo con le manine sante. Vi ricordo che a destra, se avete una tastiera civile, a destra avete il tastierino numerico. Ok? State attenti al bloc num o al bloc num sbloccato. Fatemi vedere come sono io. Io ho il bloc num attivo? Adesso è sbloccato. Ok, adesso ce l'ho bloccato e quindi posso scrivere i numeri. Quindi i numeri, la barra, le operazioni, tutte con la tastierina sono molto più veloci. Qui adesso diviso E8 e clicco, vedete? Clicchete! Oh, le nuove features. Ecco, però le nuove features sono date a quel paese. Mannaggia, uguale, E7 diviso E8, cos'era? Più C9. Sto facendo tutto cliccando adesso, molto molto semplice. C9 per 3. Ok? Invio e viene il risultato. Ecco, questo di poter cliccare le celle è molto comodo, soprattutto quando faremo i range. Vedremo più avanti. Benissimo, direi che ci abbiamo, troppo semplice, per esercizio, adesso fate questa cosa qui e adesso ve lo dico, io ve la scrivo perché altrimenti non ce la farete mai. E2 al cubo meno 2 volte E3, virgola, il tutto diviso per la somma di 7 per 24 E4 diviso E5. Ok, fate tutta questa cosa, ricordate che potete usare le parentesi, però solo ed esclusivamente le parentesi tonde, non usate mai le quadre, le graffe, potete usarne però quante ne volete, quindi nidificare le parentesi. Questo lo dico soprattutto per chi non ha fatto le superiori, perché alle medie ricordo che le parentesi hanno rigorosamente tonde, quadre, graffe, ok? E basta, mentre le superiori ti insegnano, o forse no, neanche le superiori secondo me, quando fai linguaggio di programmazione ti insegnano che in realtà non servono, puoi nidificarle. con infinite parentesi tonde. Ecco, qui prego, adesso fermate il video, va che mi accorgo se non lo fermate, anzi ci metto, adesso ma ci metto la pubblicità a, qualche minuto siamo, 7 e 37, ci mettiamo la pubblicità, ciao ciao. Ecco, ti è piaciuta la pubblicità? Benissimo, allora hai fatto l'esercizio almeno durante la pubblicità? Dai, vediamo, vediamo questo difficilissimo esercizio, uguale E2 al cubo, meno 2 volte E3, sto scrivendo perché è usando il mouse, mi scoccio a muovere la mano per il mouse, il tutto diviso per la somma di 7 per 24, più, è la somma, E4 diviso E5. Finito, ecco fatto, vedete, facilissimo, risultato, 1250,983 se lo mettete in questa cella, beh ovunque lo mettiate questo, vero? Invece no, cazzo, l'hai sbagliato ovviamente, ci vanno le parentesi, perché il tutto diviso indica chiaramente che, ho messo la parentesi qui, e anche un'altra bella parentesi qui, ecco qui, benissimo, allargo un po' perché qualcuno si è lamentato che qui si vede male, ecco qui, potete, se non è necessario mettere altre parentesi, ve lo assicuro con il mio dottorato in matematica lì al muro, vi assicura che non è necessario mettere altre parentesi, tuttavia, se siete timorosi, dite, magari mi fa la somma prima della divisione, potete metterci altre parentesi, ecco qui, guardate che come Excel gentilmente ve le colora per farvi capire le coppie di parentesi, quindi potete proprio abusare di parentesi, se volete potete mettere anche una parentesi attorno a E4, ogni tanto qualche studente me lo fa, così, che è più, esteticamente più bello, l'E4 protetto da parentesi, ok, potete abbondare con le parentesi, non è mai sbagliato abbondare con le parentesi, invece non metterle dove servono, quello è sbagliato, benissimo, beh, adesso non voglio offendere la vostra intelligenza con ulteriori esercizi su queste cose, e passiamo a cose più intelligenti, quindi prendiamo FGHI, tasto destro, elimina, ok, allora, sempre nel foglio primo, nella cella F2, scriviamo il quadrato di E2, uguale, E2, se mi scrivete il quadrato di E2 così vi boccio, perché allora vi faccio scrivere la milionesima potenza, ok, E2 al quadrato, benissimo, e vabbè, è quel che è, adesso attenzione alla magia, pronti, infatti per quello volevo chiamarlo educati e casellati, ok, vedete qui che c'è un quadratino vero, dell'altra volta questa cosa faceva magie tirandolo in giù, cosa succede se tirate in giù il quadratino vero della formula, guardate, tiro giù, e vedete, qui era E2 al quadrato, e qui magia delle magie è diventato E3, qui è E4, qui è E5, cioè Excel ha capito che se tu tiri in giù tu vuoi probabilmente applicare la formula non sempre E2, come sarebbe logico, ma vuoi andare avanti e applicarla a quelle celle lì, perfetto, ogni tanto non vuoi farlo, ogni tanto non vuoi farlo, vediamo se premendo il tasto control, no, anche se premendo il tasto control te lo farò stesso, ok, quindi se proprio non vuoi farlo, eh, niente, vediamo dopo un trucco losco, quindi potete trascinare la formula e Excel automaticamente aumenta questo qui, ok, adesso trascinatela a destra, per un passo solo, non serve di più, ops, ecco, cosa succede quando vedete questo? Dramma, vi giuro, ci sono studenti che panicano quando vedono questo, vabbè, quando vedete questo non è un errore, semplicemente la cella è troppo stretta, allora vedete qui, andate qui e l'allargate, buuuu, ecco qui, oppure, oppure, andate qui sul bordo, doppio clic, clic clic, e la cella si autoadatta, volete altri modi? Selezionate la colonna, larghezza colonne e la potete forzare tipo a 15, ecco qui, ok, comunque io di solito doppio clic e sono a posto, ok, ecco, cos'è successo qui? Qui era E2 al quadrato, io trascinando in giù ho aumentato E2, trascinando verso destra è aumentata la lettera, quindi è passata da E a F, questo è un comportamento proprio ufficiale, cioè trascini in giù, aumenta il numero di riga, trascini verso destra, aumenta la lettera, cos'è il numero di lettera? No, va avanti la lettera sull'ordine alfabetico, Excel capisce che dopo Z deve venire a A, ok, vabbè, anche questo si può trascinare in giù, si possono fare cose più interessanti come trascinare a sinistra, scriviamo in H7, questa H7 affondato, uguale E4 meno C4, ok, quindi H7 contiene E4 meno C4, così per motivi miei faccio la tabella fatta in questo modo barbaro con riferimenti a righe diverse, di solito quasi mai si fa un riferimento a una riga diversa se poi lo si trascina, e adesso vedete perché, ok, come al solito se la trascino in giù mi va E5, E6, vedete, anche se non è la stessa riga Excel capisce che deve incrementare, E7 e via così, se la trascino verso destra la E diventa F e la D, scusate, la C diventa D e la E diventa F, ok, se la trascino verso sinistra, attenzione, verso sinistra, mi dà un errore, perché mi dà un errore? Beh, perché lui correttamente ha scritto D4 meno B4, peccato che B4 non sia un numero e quindi il meno non si riesce a fare, vedete, me lo scrive anche qui, nelle nuove versioni di Excel vedo che mi scrive cosa vale B4, nelle vecchie no, vale German, ok, e quindi non funzia e mi dà un errore, valore, che poi vedremo cosa sono gli errori, però qua, quindi, trascinando verso sinistra, però l'aspetto importante è che decrementa le lettere, e trascinando verso l'alto, come è ovvio, decrementa i numeri, facciamolo e vediamo, fino a qui, allargo per vedere bene cosa succede, fino a qui me li ha decrementati fino ai 2 meno C2, qui correttamente ha scritto E1 meno C1, ma entrambi non sono numeri e quindi non c'è verso, e qui ha dato un RIF, è RIF meno RIF, peraltro, tra l'altro ringrazio chi mi ha consigliato di chiamare il corso Educati e Cancelletto REF, punto esclamativo, che è uno dei classici errori, RIF in italiano, REF in inglese, ah, value in inglese, valore in italiano, ho deciso di fare il corso praticamente bilingue, questo cosa succede? Succede quando voi trascinate la cella e i riferimenti vanno fuori dal foglio, perché qui era già a C1, E1 meno C1, e diventerebbe E0 meno C0, che non esistono, e quindi Excel dice, ciccio, io non riesco a fare i conti, ti faccio RIF meno RIF, e qui continua con RIF meno RIF, quindi se vedete l'errore REF in inglese o RIF in italiano, vuol dire che avete trascinato celle e le celle sono finite fuori dal foglio, oppure che avete scritto il nome di una cella proprio coi piedi, ecco, aspettiamo, fermiamoci un attimo per vedere i classici errori in Excel, ecco qui, confesso che li avevo in PowerPoint, perché il corso risale all'epoca in cui si usava ancora PowerPoint, ho fatto copia e incolla, benissimo, qui in inglese e qui in italiano, la spiegazione è in inglese, che voi saprete sicuramente, vediamo i classici errori, abbiamo già visto valore, bello valore, e qui dice, tipo sbagliato in una funzione, in realtà possiamo mettere in una function o formula, quindi in una formula anche, abbiamo già visto questo, abbiamo visto il RIF, RIF, sbagliata il riferimento alla cella, ok, abbiamo anche il name, nome, che avete sbagliato il nome di una cella, voi dite come si fa a sbagliare il nome di una cella? e beh, basta impegnarsi, ad esempio posso mettere uguale DDD777, che non esiste, perché penso che, no esiste invece, allora ci aggiungiamo un'altra D, 4D77 non esiste come cella, ok, oppure posso semplicemente mettere uguale 4D, 4D non esiste come cella, meglio, esisterebbe la colonna, tripla D, esisterebbe la colonna tripla D, ma non si indica così, e la cella tripla D non esiste, perché gli manca il numero per avere il classico riferimento a tipo battaglia navale, e non c'è neanche nessuna cella che qui, qui ha il nome, ok, il nome, che si chiama in quel modo, ok, vediamo altri errori che posso, beh, la divisione per zero, beh, questo non vorrei offendere la vostra intelligenza, faccio così, diviso zero, mi dà l'errore divisione per zero, voi direte, ma chi è così stupido da fare diviso zero? beh, magari non sei stupido da fare diviso zero, ma qua hai una formula tutta complessa, che poi alla fine per qualche motivo ti viene zero, beh, adesso ne faccio una semplice, che per cui viene zero, meno questo, meno questo, dovrebbe venire zero, no, invece, viene un numero piccolissimo perché c'è un arrotondamento, mannaggia Excel, viene un numero piccolissimo, vediamo se, tiro in giù, ecco, qui viene invece zero, perché viene zero, tra l'altro, mistero della fede, e qua, no, è sei, deve essere, mannaggia Excel, ecco, posto, a posto, va bene, qui continua a esserci un problema d'arrotondamento, qui invece viene esattamente zero, ok, quindi può succedere che viene divisione per zero, anche senza che venne accorgiate, ok, quindi divisione per zero, nome, avete sbagliato a scrivere il nome in una cella, tipicamente avete sbagliato il nostro stile battaglia navale, oppure avete usato un nome, ricordo che si possono segnare i nomi, l'abbiamo visto nella lezione precedente, che però non esistono, non è scritto in quel modo, è difficile fare questo errore, perché ve li colora, se non ve la colora, ve la lascia nera, riff, l'abbiamo appena visto, value, avete cappellato un valore, o in una funzione, o in una formula, questo l'abbiamo già visto, gli altri li vedremo dopo, quando vediamo le funzioni, benissimo, torniamo su primo, ok, anzi non su primo, ma su logical, dov'è? Logical, ci sono un po' di attrezzi da giardino, da giardinaggio, belli eh, ok allargo un po', ok, benissimo, supponiamo che qui, qui c'è il prezzo in euro, supponiamo che io lo voglia mettere in dollari, no mi spiace, per mettere in dollari non è sufficiente cambiare la valuta, perché lui ve lo tiene a 28, voglio proprio metterlo in dollari, col tasso di cambio, allora io mi scrivo il tasso di cambio da qualche parte, tipicamente qui, non so, qui ad esempio, il tasso di cambio euro dollaro, quanto sarà? L'ultima volta lo scritto era 1,08, 1,08, magari ci aggiungo un po' di cifre, così lo vedo, eccolo qui, 1,08, adesso prendo qui, uguale, prezzi in euro, per, la cella D19, che contiene, l'1,08 del tasso di cambio, e ho il prezzo in dollari, 30,24, se volete possiamo anche formattarlo, guardate, lo formattiamo, vado qui, e dov'è? Contabilità, no, valuta, e ci metto il dollaro americano, di Singapore, no, Stati Uniti, che poi è uguale, dal punto di vista, ok, ecco qui, a questo punto cosa vorrei fare? Beh, vorrei farlo per tutta la colonna, quindi dico, ah, io sono scaldo come una farina, tiro in giù, eh, tiro in giù, però cosa succede? Zero, perché zero? Perché, eh, F2 è diventato correttamente F3, ma D19 è diventato D20, che non contiene questo numero, come so risolvere? Vi giuro, ve lo giuro, conosco persone, che ancora adesso, fanno così per risolverlo, pronti? Prendono questo 1,80, lo trascinano in giù, risolto, e funziona tutto, ok, soluzione così, all'esame, vi boccio, ok, quindi torniamo alla versione precedente, ok, come si fa a risolvere seriamente? Dobbiamo spiegare in qualche modo Excel, che F2 va benissimo modificarlo, ma D19 no, e come glielo spieghiamo? Glielo spieghiamo con i dollari, oh, questi dollari non ha niente a che fare con la valuta dollaro, è semplicemente un simbolo che Bill Gates, aveva sulla tastiera, e diceva, no, non è vero, perché poi penso che l'abbia deciso chi ha fatto l'Otus 1,2,3, che simbolo uso, mettiamoci il dollaro, un simbolo che si usa poi, ecco, adesso questo esempio ha a che fare con i dollari, ma non ha niente a che fare, come funziona il dollaro? Voi mettete un dollaro davanti alla colonna, e un dollaro davanti alla riga, quindi diventa dollaro di dollaro 19, funziona ancora, ok, il dollaro sa significare non toccarmi con la roba lì, quindi blocca la colonna e blocca la riga, adesso io trascino in giù, invece che trascinare faccio clic clic, che è uguale, clic clic, e vedete, lui mi ha modificato F7, ma D19 è rimasto fisso e inchiodato, ottimo, perfetto, questo F2 si chiama riferimento relativo, e D19 si chiama riferimento assoluto, altro modo per fare un riferimento assoluto, torno indietro, ok, è dare un nome a questa cella, ad esempio la chiamo, tasso underscore di underscore cambio, ok, invio, ricordo che sono schiacciato invio, quando ho dato un nome non funziona, invio, adesso questa cella ha due nomi, si chiama D19, e si chiama anche tasso di cambio, qui invece di usare D19, uso tasso, vedete, me la mette tra i suggerimenti, tasso di cambio, gente che usa Google Spreadsheet o OpenOffice, questa roba si può fare, solo per curiosità, ok, e se una cella è chiamata per nome, chiaramente trascinandola in giro, resta sempre quella, perché non esiste tasso di cambio 2, 3, 4, c'è solo tasso di cambio, quindi adesso se la trascino, tasso di cambio resta tale quale, vedete, ok, ma torniamo al nostro D19 con i dollari, ok, vi ho detto che il dollaro davanti alla colonna blocca la colonna, il dollaro davanti alla riga blocca la riga, in questo caso sono necessari tutti e due? No, la colonna noi non andiamo a trascinare a destra a sinistra, trasciniamo soltanto in basso, quindi possiamo anche omettere questo, questo è un riferimento parzialmente assoluto, e vabbè, è il nome che gli ho dato io, quindi di meglio non l'ho trovato, quindi di 19, così, sapete, e funziona tranquillamente, analogamente potete bloccare solo la colonna e non la riga, quindi avete 4 modi per fare riferimenti, o di 19, dollaro di 19, di dollaro 19, dollaro di dollaro 19, a seconda se volete bloccare colonne e righe, a seconda della direzione in cui trascinate, ve lo dico, 90% delle volte si trascina solo verso il basso, è raro trascinare a destra, rarissimo trascinare a sinistra o verso l'alto, anche perché si rischia di andare fuori dalla tabella, mentre trascinando verso il basso o a destra, non si va mai fuori dalla tabella. Un trucco veloce per non stare lì a premere shift, dove è? Shift, su shift 4 per avere il dollaro, è usare il tasto F4, mi riferisco a chi ha la tastiera civile, che ha i tasti funzione, la mia, nonostante sia una delle più fiche, bellezza qui, non ha i tasti funzione facilmente accessibili, bisogna schiacciare 18 tasti, quindi adesso io provo, speriamo non mi salta tutto, eccolo, con F4, sto continuando a schiacciare F4, con F4, come si dice, in inglese si dice toggle, in italiano non lo so, passa da un riferimento all'altro, quindi io per dollarizzare, basta che il cursore del mouse si avvicina, ad esempio se sta qui, me lo farà solo su F2, se invece seleziono tutto, allora me lo faccio tutta la formula, vedete, e una curiosità, se seleziono di 19, e arrivo fino qui, tutta la formula comunque, e se seleziono di 19 basta, dai è abbastanza intelligente, per capire cosa deve fare, benissimo, adesso è l'ultimo F4, colpetto di, il primo colpetto di F4, mette dollari ovunque, benissimo, ecco qui, giusto per esercizio, proprio per, fa, moltiplico il prezzo, qui, per la quantità disponibile, e ci sommo il costo di trasporto, fisso proprio, questo 1 fisso, quindi, uguale, proprio, prezzo, per, quantità disponibile, anzi, quantità richiesta, non disponibile, e ci sommo, il costo di trasporto, ok, lo so, lo so, che non tutti gli oggetti, sono small, e che certi oggetti, in quantità richiesta 0, è cattiveria, che io chieda il costo di trasporto, ok, in questo caso, ovviamente, devo dollarizzare B19, ci metto solo il dollaro qui, e basta, non devo far altro, ed ecco che funziona, se io lo so, questi uni, andrebbero messi a 0, lo faremo, lo faremo, non preoccupatevi, che faremo anche quelli, è possibile, andare a prendere, riferimenti di celle, da altri fogli, questo si fa, sia, eventualmente, chiamando con un nome, ad esempio adesso, tasso di cambio, se in un altro foglio, uso tasso di cambio, mi va a pescare, questo tasso di cambio qui, ah, una raccomandazione, non mettete mai, lo stesso nome di cella, in fogli diversi, è possibile farlo, quindi è possibile andare, in un altro foglio, e chiamare una cella, tasso di cambio, ma questo, vi fa un casino, terrificante, perché non capite, non capite più, se il riferimento è locale, o globale, non fatelo, e state molto attenti, se copiate un foglio, ad esempio, se io adesso duplico, il foglio logical, avrò due celle, che si chiamano, tasso di cambio, vi assicuro, una volta mi è successo, un casino, ho dovuto rifare tutto, quindi, attenzione, se date il nome, e poi duplicate il foglio, perché poi avete due celle, che si chiamano, in due fogli diversi, quindi io do, molto raramente, i nomi, vediamo, vediamo se mi ricordo, come si fa a toglierlo, dove diavolo si toglie, dati, formule, autipagina, dati, no, in formule, gestisci i nomi, ecco adesso lo tolgo, guardate, elimina, ok, elimina ostanto il nome, ok, benissimo, tolgo anche il valore qui, che non serve, adesso, come facciamo a prendere i valori, da altri fogli, beh, ad esempio vado qui, uguale, posso farlo in due modi, posso o scrivere a manina, ad esempio, voglio moltiplicare questo prezzo, per il foglio logical, no, scusate, un attimo, ha il foglio primo, valore c2, quindi o scrivo, proprio lo faccio a manina, primo, il nome del foglio, punto esclamativo, c2, questo vuol dire la cella c2 del foglio primo, attenzione che, questo funziona bene, se il nome del foglio non ha spazi, se il nome del foglio ha spazi, dovete racchiuderlo tra apostrofi, io vi consiglio sempre, di evitare fogli così, come ho fatto io qui, con gli spazi, perché è molto più comodo, che non abbiano spazi, perché dopo iniziate a avere apostrofi dappertutto, e tra le apostrofi, le parentesi, i punti esclamativi, i dollari, non si capisce più una fava, ok, vediamo se funziona, o che funziona, e se però io tiro in giù, vedete, mi ha cambiato primo c3, anche il riferimento dell'altro foglio cambia, magari, magari io volevo dollarizzare questo 2, in modo che non cambi, ecco, quindi vedete, il riferimento all'altro foglio funziona, e talvolta però voi non sapete cosa c'è nell'altro foglio, quindi volete prenderlo, quindi io prendo F2 per, attenzione, vado a questo punto nel foglio primo, con la formula aperta, si dice, a formula aperta, vado nel foglio primo, C2, clicco su C2, guardate qua sopra la barra, vedete, è scritto giusto, adesso capisco che, capisco che, chi lo sta guardando sul cellulare, e mi chiedo come si fa a seguire un corso di accesso sul cellulare, non veda bene, però è scritto giusto, F2 per primo C2, e adesso l'errore tipico di ogni studente, attenzione, errore tipico dice, vabbè, siccome la formula sta nel foglio logical, io torno nel foglio logical, torno nel foglio logical, allora funziona, ah scusate, è perché ho schiacciato, ho fatto lo zoom, rifacciamo, è perché ho fatto lo zoom, mi è funzionato e non doveva funzionare, vado qui, primo C2, errore, torno nel foglio logical, è scritto primo C2, vedete qui, e vediamo cosa succede, ecco, vedete è diventato logical C2, Excel c'è questo brutto viziaccio, che anche se voi cliccate su una cellulare, se poi per caso vi spostate da quel foglio, lui prende la stessa cella, ma del foglio in cui siete, è veramente un errore da picchiare la sangue, cioè questa cosa non capisco perché non la sistemino, perché non c'è nessun problema diretto a compatibilità, ok, e come ovviare, come ovviare, perché ad esempio magari io vorrei poter andare avanti con la formula adesso, beh, ci sono due modi per ovviare, il primo è triste triste, cioè cambio logical in primo, è triste triste proprio, il secondo è così, uguale, F2, per, vado nel foglio primo, clicco su quello che devo cliccare, C2 in questo caso, è scritta giusta, attenzione, premo invio, quindi concludo la formula, ma concludo la formula premendo invio, vengo immediatamente teletrasportato a casa, guardate, premo invio, opete, sono stato teletrasportato nel foglio logical, ed è scritta giusta, ok, e a questo punto la modifico, vado avanti più quel che devo sommarci, ogni tanto però io non posso premere invio, perché? Perché magari sono nel mezzo di una formula che è al momento scorretta, ma scorretta proprio perché Excel non me la fa accettare, tipo una funzione che vuole più parametri, io non posso premere invio se non gliele ho messi tutti, robe del genere, quindi Excel non me, oppure ho delle parentesi che devo ancora chiudere, quindi Excel non mi fa, mi continua a dare, a dire non puoi lasciare la formula così, è sbagliata, è sbagliata, è sbagliata, e vi assicuro non c'è verso in Excel di lasciare una formula sbagliata, lui vi continua, tanto per farvi un esempio, se io non chiudo sta parentesi, lui continua a tediarmi, e non c'è verso, tipo appunto ci sono magari delle parentesi aperte che non avete ancora chiuso, perché vari motivi vostri, e non potete quindi premere invio, come fare, allora F2 per primo C2, ok, come faccio adesso a non farmi cambiare questo primo in logical, e andare avanti con la formula, semplicemente vado, semplicemente, vado nella barra della formula, ci scrivo la prossima operazione che faccio, tipicamente più ad esempio, più, ok, e a questo punto posso impunemente andare a tornare nel foglio logical, ok, lui mi ha messo questo logical di merda, perché devo proprio dirlo qui, perché veramente questo è un comportamento di merda, di merda qui che non serve a niente, ma posso cancellarmelo con comodo, oppure posso lasciarlo, tanto il foglio è questo, però vedete, primo almeno me l'ha lasciato primo, poi ci metto quello che devo fare, ecco, da adesso in poi si ostina a mettermi logical, anche se sono nel foglio logical, vabbè, ok, non dà fastidio, dà fastidio questo logical, ma la formula funziona comunque, ecco, quindi come vedete, pescare le cose da altri fogli, insomma, è un po' narogna, è un po' narogna, tuttavia spesso serve, perché spesso organizzate le informazioni su più fogli, questo veramente serve spesso, c'è infine un'altra cosa che si può fare, ed è pescare dati da altri file, io adesso vi spiro come si fa, e vi ordino di non farlo mai, allora facciamo un esempio, se ad esempio io, invece che io devo pescare, qui da un altro file, che si chiama, altro underscore file, spero che l'altro file, almeno abbia un nome senza spazi, altrimenti anche lì apostofi, punto xlsi, dovete mettere anche l'estensione, e qui vi insegna che, sui sistemi operativi, sia Windows, che Linux, che no, scusui, Linux non è colpa, sia Windows che Mac, dovete abilitare le estensioni, perché se non vedete le estensioni, non mi distinguete un xls, da un xlsx, e proprio sbagliate cose del genere, ok, ci mettete il nome del file, tra parentesi quadrate, le parentesi quadrate, per i più incapaci, si trovano sulla tastiera italiana, premendo alt, grrrr, e voglio vedere quanti ho svegliato, con questo grrrr, e la e con l'accento e il più, ok, sulle tastiere di altre lingue auguri, ok, soprattutto su quella tedesca, ok, a questo punto, dopo aver messo il nome del file, tra parentesi quadrate, dirgli anche il foglio, il foglio sarà, boh, foglio 1, punto esclamativo, c2, ecco, questa è la notazione, il problema di questa notazione, è che, non appena voi, spostate questo file dalla directory, in cui è questo file, o se per caso lo cancellate, o se per caso mi spedite il file su cui state lavorando qui, ma non mi spedite quest'altro, la formula non funziona più, peggio che andare di notte, come diceva mia nonna, se qui ci mettete tutto il cosiddetto path globale, cioè ci mettete un c2 punti, barra, users, barra, Paolo, barra, desktop, ecco, questo peggio che andare di notte, proprio, perché io sicuramente non avrò lo stesso path, quindi anche se mi date il file giusto, non lo ritroverò mai, quindi, pescare cose, pescare dati da altri file, veramente è una cattiveria, io lo toglierei come da Excel, gli metterei un warning gigantesco, perché veramente, lo sapete, 99% delle volte che qualcuno ha fatto così, e mi ha mandato il file, si è dimenticato di mandarmi l'altro, sicuro, proprio sicuro come la morte, quindi, non per piacere, non pescate mai, dati da altri file, benissimo, passiamo adesso, finalmente, alle funzioni, Excel ha una enorme libreria di funzioni, che fanno di tutto e di più, veramente, cioè, i TV risparmiano la vita, c'è molte, molte più funzioni di un normale, linguaggio di programmazione, nella sua versione base, chiaramente, nella sua versione avanzata, i linguaggi di programmazione hanno pacchetti aggiuntivi, ok, attenzione a queste funzioni, perché, queste funzioni, purtroppo, sono, estremamente, dipendenti dalla lingua, ne so che se avete Excel in una lingua, scriverlo in un modo, se avete Excel in un'altra lingua, scriverlo in un altro, che non è sempre la traduzione diretta, ad esempio, l'italiano, ha il viziaccio di cacciare dei punti, in mezzo alle funzioni, per separare le parole, vabbè, che potrebbe essere una buona idea, se si può stato fatto anche in inglese, ma, poi, e, oppure di invertire le cose, perché in italiano, di solito, l'aggettivo non va necessariamente prima, e non c'è il gerundio sassone, ok, quindi, attenzione ai nomi, io adesso cercherò, in tutta, userò le funzioni in italiano, perché dipende dalla lingua, e, ogni volta vi dirò la corrispondente funzione in inglese, se la so, di solito il problema è l'opposto, spesso so quella in inglese, e ci saranno, voleranno bestemmie, per quella in italiano, e, la cosa però, per fortuna è trasparente, quando passate il file, da un sistema operativo ad un altro, oppure quando passate il file, da un Excel a un altro, quindi, se io Excel in italiano, adesso vi do, questo Excel che ho fatto qui adesso, originalmente l'avevo fatto con Excel in inglese, eppure le funzioni che vedete più avanti, le vedrete tutte già dentro in italiano, perché, perché, è proprio trasparente, cioè, Excel non si memorizza il nome della funzione in italiano, la memorizza sempre in inglese, semplicemente scrive, traducimela in italiano, purtroppo, trovare un elenco di traduzione completo, e intendo completo, al 2024, di tutte le funzioni, in italiano e in inglese, è roba impossibile, ok, abbiamo dei pagliativi, eccoveli qui, pagliativi numero uno, sono questi due link che vi ho allegamente messo qui, le funzioni di Excel in inglese e in italiano, tutte, tutte e tutte in ordine alfabetica, questo è il sito della Microsoft, quindi, si, Bill, eccole qui, eccole vedete tutte, e c'è scritto, soprattutto anche se sono tipiche di Microsoft 365, quindi probabilmente non le avrete nelle versioni precedenti, o non le avrete in Open Office e compagnia bella, utilissima funzione, converte un numero romano in numero arabo, ne sentivamo la necessità, da 2013 soprattutto, va bene, ecco qui, c'è anche la versione, questa è la versione in inglese, qua sotto la versione in italiano, ecco, gustava tanto mettere la fiancata, in compenso la Microsoft ci fornisce il traduttore di funzioni, andate su add-ins, add-ins, cerca componenti aggiuntivi, è solo per Microsoft 365, e gli altri, marameo, cercate translator, translator, ok, adesso non me lo propone perché l'ho già installato, e non prendete traduttori di lingua, ma traduttori di funzione, o function translator, eccolo qui, ed è qui, e vi si installa qui, perché mi si installa anche un riferimento, interessante che è sta roba, no, ah, bom, il traduttore di funzioni, ha il grosso vantaggio che vedete, adesso mi sposto dall'altra, ecco qui, c'ho le funzioni in italiano e l'equivalente in inglese, ah, ma forse scegliendo tutto, sì, scegliendo tutto e ci sono tutte, e posso fare copy and colla, fichissimus, ecco, potete farvi, vabbè, ve lo faccio io, dai, guardate, bontà mia, copia, e posso aprire un file word, in diretta, produciamo materiale didattico, me lo metti su tabella magari, gentilmente, se è piantata, ah no, è una tabella, dimmi che è una tabella, sì, è una tabella, attenzione, sì, è una tabella, dunque, se è una tabella, però, vorrei, così facciamo anche piccole lezioni di word, eliminare questo, come si fa le tabelle in word, si toglie via la porcheria, tasto destro, rimuovi collegamenti protestuali, che non si può fare, non ci sono più collegamenti protestuali, meno male, ah, vabbè, me la sistemo dopo, intanto la salviamo, sul desktop, funzioni, e ve la metterò come materiale didattico, questo per chi paghi 77 euro, gli altri niente materiale didattico, ok, comunque qui teniamocelo questo aperto, perché sennò volano le bestemmie qui, benissimo, dopo questo dissing, alla Microsoft, nella migliore tradizione, vediamo cosa sono queste famigerate funzioni, diamo nel foglio logical, ve l'ho pulito, ad uso e consumo vostro, ok, colonna, F, foglio logical siamo, no, nel foglio primo, scusate, colonna F, no, foglio logical, che cosa sto dicendo, scusate, colonna G, colonna G mettetemi la radice quadrata del prezzo, so che, no, scusate, delle quantità disponibili, non del prezzo, so che non ha nessun motivo di esistere, però no, in realtà ha un motivo di esistere, se io ho degli oggetti, che hanno soltanto, sono bidimensionali, mi dice, quanta superficie, quella è quadrata, vabbè, niente, no, sì, esatto, quanto superficie metto lineari devo usare, quindi ha un suo senso, voglio calcolare, quindi la colonna G, la radice quadrata è la colonna D, allora, prima funzione matematica che vediamo, la radice quadrata, che in inglese è SQRT, magari, forse questo è in italiano, in italiano è rad Q, senza il punto, non si capisce perché questo è senza il punto, rad Q, ok, vedete, mentre io scrivo la funzione, Excel generosamente, mi propone tutte le funzioni, che cominciano così, e io sono curioso di cos'è, che in sclalata, ok, vabbè, rad Q, le funzioni Excel le scrive maiuscole, non è necessario che voi le scriviate maiuscole, ok, la funzione inizia sempre per aperta parentesi, anche quelle che non hanno parametri, aperta parentesi, a questo punto Excel mi dà un suggerimentino, mi dice, guarda, la funzione rad Q vuole un numero, ok, lo sappiamo per radice quadrata, ma vi assicuro che più avanti, non sarà per niente ovvio, ok, e non solo, questa roba è cliccabile, beh, num non cliccate, ma cliccate rad Q, e vi arriva qui a latere, la guida, ecco qui, che mi dice, leggiamola perché, potrebbe essere, così, leggiamo questa che è banale, ma poi per farvi capire come sono articolate, restituisce la radice quadrata positiva, banale, ma in caso di funzioni più complesse, sintassi, rad Q di num, ok, num obbligatorio, numero di cui si desidera la radice quadrata, poi vi dice i casi in cui la funzione può dare errore, se num è negativo, rad Q restituirà l'errore di tipo num, che era uno degli errori che avevamo visto, adesso lo guardiamo, li guardiamo prima, com'è in italiano l'errore num, poi se ancora siete decoccio, vi fa proprio un esempio, vi fa vedere rad Q di 16, restituisce 4, rad Q di A2, che dovrebbe essere questo, restituisce num, rad Q del valore assoluto di A2, restituisce 4, queste informazioni sono state utili? sì, ottimo, no, niente altro feedback, vabbè, perché devo inviare altro feedback? no, grazie, ok, va bene, così funziona la guida, ok, andiamo a vedere l'errore num, l'errore num, che è num anche in italiano, è num anche in italiano, dice che c'è un numero errato in una funzione, o un numero troppo grande, perché succede anche certe funzioni in un numero troppo grande, in questo caso chiaramente i valori negativi sono considerati errati, quindi rad Q, ok, e viene la radice quadrata di 3, che è 1,73, anche qui funziona il trascinaggio, vedete, radice quadrata di 25, dovreste sapere che è 5, lo sapete, vero? ok, perfetto, quindi rad Q l'abbiamo visto, simile a rad Q abbiamo exp, in inglese, in italiano, è exp anche in italiano, non posso crederci, ok, è l'esponenziale, per chi non avesse studiato, ma poi l'esponenziale viene fatto tipo in terza superiore, o in quarta, in quarta forse, in terza, quarta, per chi non fosse arrivato fino alla terza, quarta superiore, o non gliele avesse, spiegato, e quindi può denunciare il professore di matematica, è, e il numero di nepero, elevato alla, ok, viene una roba grande, quindi eleviamo alla quantità richiesta, anche qui funziona il clicca clicca, ok, chiaramente, e alla 1 fa 2,7,1, il numero di nepero, e alla 0 fa 1, perché ogni numero elevato alla 0 fa 1, tranne 0, e se non ve l'hanno mai spiegato, denunciate il professore di matematica, e alla 15 viene un numero gigantesco, ok, questo è banale, banale, passiamo a cose più semplici ancora, pi greco, ora, in inglese la funzione è pi, in italiano è pi punto greco, ok, guardate, guardate qui il piccolo aiutino, vedete una funzione senza parametri, è aperta e chiusa parentesi, qui non c'è uno 0, c'è aperta e chiusa parentesi, e cosa fa? beh, pi greco, indovinate cosa fa, e vi da il pi greco, clicco clicco, e chiaramente non avendo parametri, vi da sempre il pi greco, è una funzione costante, se siete curiosi, arriva fino a uno sbordello di cifre, uno sbordello mica tanto, arriva fino a questo, quante sono? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15 cifre in totale, da pi greco con una precisione di 15 cifre, va bene, storniamo indietro con queste cifre, ok, poi, abbiamo, 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 ecco, iniziamo con le cose, iniziamo, ln, ln è il logaritmo naturale, quindi logaritmo in base e, se non sapete cos'è un logaritmo, denuncia il professore di terza superiore, se non sapete che è un logaritmo naturale, ridenuncia il professore di terza superiore, prendiamo il logaritmo del prezzo, quindi, la mia azienda applica prezzi logaritmici, ok, logaritmo non esiste soltanto in base e, esiste anche in base 10, in questo caso è log 10 in inglese, e anche in italiano, beh dai, ok, ma esiste anche in qualunque base, quindi, se voi volete mettere logaritmo in base 2, che in informatica si usa tanto, il logaritmo in base 2 del prezzo, non so che senso possa avere, ok, quindi, e vedete, se io scrivo semplicemente log, è una funzione diversa, ln, log e log 10, sono tre funzioni diverse, ln e log 10 hanno un solo parametro, che è l'argomento di cui dovete calcolare il logaritmo, e log, invece, ha due parametri, vedete, sono due parametri, il primo, è il numero di cui dovete calcolare, ma vediamo l'aiuto, la funzione log, restituisce il logaritmo di numero, nella base specificata, num obbligatorio, numero reale positivo, altrimenti il logaritmo non esiste, di cui si desidera calcolare il logaritmo, base, facoltativo, vedete che, qui, base, è tra parentesi quadre, cos'è stato un errore del programmatore della Microsoft, che gli è scappato una parentesi quadra? No, quelli tra parentesi quadre, è perché sono facoltativi, base del logaritmo, se base viene omesso, verrà considerato uguale a 10, quindi, tutti quelli facoltativi, se viene omesso, succede qualcosa, è il comportamento di default, in questo caso, quindi, se io, non specifico, se io specifico base 10, o non specifico niente, è uguale, ah, gli argomenti, delle funzioni, si separano normalmente, in Europa, col punto e virgola, in America, con la virgola, ok, se avete in Excel, in versione europea, e andate in America, e lo aprite con un Excel, in versione americana, automaticamente, tutti i punti virgola, diventano virgola, ok, adesso, approfondiamo un po' più, questa faccenda a punti virgola, potrebbe essere letale, ok, vedete, se io, il risultato è, 1, 4, 4, 7, 1, se io ometto il 10, il risultato è lo stesso, se io però, metto logaritmo in base 2, allora, calcoliamo la mente, logaritmo in base 2 diventa 8, 2, per 2, 4, per 2, 8, per 2, 16, per 2, 32, sarà qualcosa tipo, 4,7, dai, 4,8, calcolare i logaritmi a mente, ok, benissimo, tirando in giù, chiaramente, l'F2 aumenta, vedete, l'F2 aumenta, ma il 2 no, resta tale e quale, allora, apriamo una parentesona su questi separatori, perché scommetto che tra di voi, ci sarà stato un 1%, che se in un'aula di 100 persone, 1% è 1, qui tra 10.000 persone, 1% iniziano a essere tanti, in cui non ha funzionato, questo punto è virgo, perché dipende da che separatore avete, degli elenchi, cioè questo punto è virgo, l'hai impostato in Windows, sul Mac non lo so, non dovrebbe essere impostato sul Mac, ma forse c'è una cosa simile, in Windows è il separatore degli elenchi, e ogni tanto qualcuno di voi si diverte, con le proprie ditina maledette, andare a cambiare il separatore degli elenchi, dove sta il separatore degli elenchi, vediamo se io me lo ricordo, allora vado qui, control panel, anche se l'avete in italiano, control panel funziona, ok, vediamo se si può chiedere list separator, manco per idea, separator, non è questo, allora, dovrebbe essere in appearance and personalization, oppure se fate view by large icon, file explorer options, mistero, vediamo, ah no, nei setting regionali, scusate, in region, region, ok, region, additional settings, se l'avete in italiano è uguale, io ce l'ho in inglese, non intendo cambiare anche la lingua, di tutto il sistema operativo, additional settings, ok, eccolo qui, qui avete il decimal, simbolo decimale, e simbolo delle migliaia, che io l'ho impostato sull'americano, ma l'excel che sto usando invece, ha la controimpostazione in europeo, che vi ho fatto vedere nella lezione precedente, ed eccolo qui il maledetto list separito, vedete, io ce l'ho impostato su punte virgola, ma voi potete aver fatto qualche, qualche cappella, tipo cambiare la lingua in thailandese, dialetto regionale, ecco, e se cambiate questo, sono cavoli, rimettetelo a punte virgola da qui, e già che ci siete per punizione, riavviate l'intero sistema operativo, ok, oppure, se di solito, se non è punte virgola, è virgola, però se è virgola, e avete anche la virgola come separatore dei decimali, augurino, si capirà più una fava, cioè, verrà un bordello d'errori, ok, questa parentesi è venuta a fare, perché sono sicuro che qualcuno c'è incappato, secco secco proprio, benissimo, altra funzione simile è power, che in realtà, tecnicamente, power è esattamente la funzione antitetica del logaritmo, eh sì, per forza, power, no, power è in inglese, in italiano, che come capro si chiamerà, potenza, potenza, bene, il numero è 2, quindi 2 alla 28, no, non è 28, è 28 alla 2, sì, è 28 alla 2, scusate, vediamo, facciamo la verifica, 28, e se metto 0, dovrebbe venire 1, sì, quindi è 28 alla questo numero qui, quindi se voglio fare 2 alla 28, devo fare 2 alla 28, in questo modo, ecco, verrà un numero gigantesco, gigantesco neanche troppo, ok, quindi potenza, questo alla questo, è esattamente equivalente a 2 alla, scrivelo così, è esattamente uguale, ok, c'è potenza, ogni tanto ci sono varie funzioni duplicate, insomma, non è, non è una cosa grave, altre, stiamo facendo una carrellata su tutte le funzioni matematiche, andando per difficoltà crescente, non dal punto di vista matematico, ma difficoltà crescente dal punto di vista di come gestiscono i parametri, perché dopo vedremo che ci sono certi parametri che possono essere dei range, anzi mi sa che in questa lezione non lo vediamo, perché siamo già a 51 minuti, e vi siete già addommentati in 73 mila, vediamo le funzioni di arrotondamento, round, oh dio mio, è round in inglese, in italiano, me l'ho dimenticato, è arrotonda, 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 specificate il numero, adesso arrotondare questo 28,00 non è molto sensato, arrotondiamo questo 18,95, arrotonda, numero, numero di cifre, 0 dopo la virgola, e viene 19, attenzione che questo 19 è molto diverso da fare così, perché io potrei ottenere 19 anche semplicemente facendo così, guardate, no, così no, ma, così, togliendo cifre, vedete, anche qui ho ottenuto 19, ma questo è un 19 finto, per quello vedete, ma state attenti, sempre qui guardare quello che c'è, la verità, questo è un 18,95, non è un 19, sapete quante volte mi è capitato di vedere un numero dicendo, ma questo non può essere 0, poi scoprivo che era 0,43, ok, quindi attenzione, questo non è 19, questo è 18,95, semplicemente voi lo vedete come 19, questo invece è 19, se ancora non mi credete, guardate, facciamo la differenza, uguale, questo meno questo, e vedete che la differenza non è 0, è esattamente quanto ha arrotondato, ok, so che per molti queste sono banalità assolute, ma vi assicuro che c'è gente che è convinta che se vede 19 c'è 19 sotto, quindi arrotonda, segue le regole matematiche, fino a 0,5, 0,0,0,0, no, fino a 0,4, 9, 9, 9, 9, 9, arrotondato in giù, da 0,5, 0, 0,0, arrotondato in su, se volete sempre arrotondare in su, sempre in giù, c'è arrotonda per diff, e per h, che non so mai se è in su o in giù, vediamo per diff, sempre 0 cifre, ok, per diff è in giù, e se invece metto una cifra qui, mi dovrebbe tenere il 9, ok, perfetto, arrotonda per diff, e arrotonda per h, in inglese, round down, e round up, tutto senza punti, in inglese, le formule e le funzioni in italiano sono ovviamente buffe, arrotonda appunto per punto diff, ok, vediamone altre, e vabbè, già che ci siamo, allora facciamo, teniamoci questa arrotonda, e arrotondiamo qui tutto, cos'è arrotonda per diff, e qui, io adesso vi chiedo qui, calcolare, anzi qui usiamo arrotonda quella normale, dai, arrotonda, arrotonda, questo, con una cifra dopo la virgola, clic clic, allora io adesso vi chiedo, in colon h, qui mi togliamo un po' di zeri, allora, sacripante, numero, posizioni decimali, ok, vi chiedo, in colon h, mostratemi la differenza, tra questi due, in valore assoluto, allora, la differenza in valore assoluto, dipende, in questo caso è 0,5, in questo caso 0,5, ma ci sono altri casi, immagino no, perché tutti i prezzi, mannaggia, sono al 95, vabbè, ora, la differenza, il valore assoluto, si ottiene, in inglese con, abs, che non c'entra niente con le autovetture, absolute, e in italiano con, ass, che non c'entra niente con altre cose, ass, ass, ok, allora, metto la differenza, non mi importa mettere prima quello più piccolo, per quello più grande, o viceversa, perché tanto c'è il valore assoluto che zoppa via, ah, se non sapete cosa è un valore assoluto, denuncia il professore di quinta superiore, qui, se, se la lezione due volte fa era come fare scherzoni ai colleghi d'ufficio, questa è come denunciare i professori di matematica dei superiori, e il valore assoluto, se la cosa, la cosa dentro è più, a posto, se è meno, toglie il meno, ok, detto proprio in maniera brutale, un matematico avrebbe detto, se è meno, la moltiplica per meno uno, o ne, ne, ne mostra l'opposto, ok, ass, ass, ecco lui, ok, ass, benissimo, mod, il modulo, e questo non mi aspetto che tutti voi sappiate cos'è, cos'è il modulo, il modulo è il resto della divisione, e voi direte, chi cappero se ne frega di un, cos'è il resto della divisione, facciamo un esempio, se io faccio 28, non ha senso, lo so, fare il prezzo diviso la quantità disponibile, è bastanto per avere una divisione, ok, vedete, la divisione ha la virgola, vi ricordate in terza elementare, quando qualcuno vi ha insegnato a fare le divisioni, e se non ve l'ha insegnato, denuncia la maestra di terza elementare, al maestro di terza elementare, qualcuno vi ha insegnato a fare le divisioni, però, non avete subito iniziato a farle con la virgola, le avete fatte, vi fermavate quando erano finite le cifre, e dicevate, resto 7, ecco, quel resto, c'è un modo per calcolarlo, e voi direte, e che cazzo ce ne frega, è in informatica e in algebra, si usano tantissimo, sia in informatica che in algebra, in algebra non l'algebra che avete visto voi, probabilmente alle medie, alle superiori, ma l'algebra che si vede all'università, e si usa tantissimo, ed è chiamato tecnicamente modulo, infatti in inglese questa funzione si chiama mod, in italiano manco vero ciufolo, penso si chiami resto, si si chiama resto, niente, dividendo, divisore, dov'è? questo è il dividendo, e questo è il divisore, e quindi voi, beh, a parte che me lo metti in erro, che c'è sta roba? ah ok, allora 28 diviso 3, fa 9, con il resto di 1, 19 diviso 25, scusate, è 18 e 95, diviso 25, fa 0 evidentemente, con il resto di 18 e 25, ok, quindi, questo è il resto e la divisione, è usato tantissimo, si usa per tante cose, si può usare ad esempio, giusto per esempio, butto 1, per determinare il suo numero è pari o dispari, voi dividete per 2, prendete il resto, facciamolo dai, uguale resto, questo, diviso 2, ecco, dove viene, ma, siamo sicuri? perché viene 0,95? ma qui è 19? ah no, vedete, mannaggia, vedete, non è, vedete l'errore, non è 19, ma è 18 e 95, ma che cappero, ma perché, come faccio ad avere 18 e 95? 95 rastrelli, sono proposto a 19, ecco qui, vedete, dove è 1, il numero è dispari, e dove 0 è pari, c'è, ci sono tanti altri modi in Excel, per determinare se è pari e dispari, ma questo era semplicemente un esempio, di utilizzo della funzione modulo, che si chiama modulo, anche in italiano, non capisco, il resto lo si chiama elementari, va bene, io ve le sto facendo proprio tutte, 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 e, adesso l'ultima, con quale vi tedio oggi, e poi, la prossima volta, faremo le funzioni, che utilizzano i range, ma già questo, utilizza i range, quindi niente, basta, abbiamo finito con il resto, cioè, vi stavo per fare il determinante delle matrici, ma, vedo che utilizza anche lui i range, benissimo, contenti? Abbiamo finito, ecco qui, adesso, non vi dimenticate però, i compiti, ancora devo prepararli, ma, prevedo che, come per l'elezione 3, una bella carrettata di compiti, su, su funzioni assurde, non ve li toglie nessuno, e adesso, dopo tutta questa fatica, ci meritiamo la carissima sigla, ti piacerebbe vero, puntare tutto su mondi esotici, far finta ad essere educato e finanziato, ma poi affidarti alla roulette, ti piacerebbe vero, sapere quanto ti serve, per smettere di lavorare, a negare tra fogli di calcolo, e righe di python, e confonderti tra i soldi degli altri, allora non fare il tignolazzo, e unisciti agli altri 50k, unisciti agli altri 50k.